Ho inserito quattro immagini in Active Inspire Studio in un flipchart e lo scopo è quello di creare uno slideshow. Le ho inserite agendo sul menu inserisci multimediale e cercandole nella cartella che ho predisposto di immagini sul mio pc. Le ho inserite quattro. Clicco sulla prima immagine, sono in modalità creazione, vado in browser delle azioni e clicco nel layer superiore, destinazione, scelgo la seconda immagine, applico le modifiche, poi vado sulla seconda immagine e rifaccio lo stesso procedimento. Vado in browser delle azioni, nel layer superiore, associo questa immagine con l'immagine numero 3, do l'ok, applica modifiche. vado sull'immagine numero 3, vado sull'immagine numero 3, clicco sul browser delle azioni, layer superiore, destinazione sarà l'immagine 4, do ok, applica modifiche. Vado sull'immagine 4, che risulterà essere poi la prima, di nuovo nel browser delle azioni, nel layer superiore, destinazione, l'immagine numero 1, ok, applica modifiche. A questo punto posso sovrapporre le immagini, sovrappongo le immagini, e l'effetto è uno slide show di immagini.